Are you alone soon tonight? Do you live soon tonight? Salve a tutti, sono sempre io, lo stallone italiano. Sì, lo so, vi state preoccupando perché sono sparito un po' dalle scene. Ma non vi preoccupate, lo stallone italiano si ricorda di voi. Eeeh, sto preparando dei nuovi video. E non solo, mi sto anche allenando. Ovviamente per diventare sempre più sexy. Comunque io adesso vi saluto. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Oh mi raccomando, ricordatevi, lo stallone italiano vi pensa sempre. A presto, ciao ragazzi.